Si avvicina alla musica da autodidatta, e nei primi anni Ottanta entra in contatto con Renato Sellani, che lo accompagna nei suoi studi al pianoforte e che presto diventa suo mentore e punto di riferimento. Nel 1988 si dedica allo studio della chitarra con Franco Cerri presso i civici corsi di jazz. In ambito jazz, tra il 1993 e il 1994, si occupa della direzione artistica del Ponte di Brera, sopra al Bar Jamaica, e qui ha occasione di entrare in contatto con numerosi musicisti della scena internazionale, tra cui Lee Konitz, Phil Woods e Paolo Fresu. Come cantautore comincia a collaborare con l'etichetta BMG Ariola, una RCA con cui rimane sotto. Contratto dal 1993 al 1997. I suoi modelli di riferimento dichiarati sono le sonori Twist e Coles di James Taylor, Ioni Mitchell, Neil Young e Crosby, Stills and Nash, la canzone d'autore italiana di Luigi Tenco, Domenico Modugno, Piero Ciampi, sino a musicisti crossover come Pino Daniele, Elvis Costello, Bart Baciarac.